Buonasera a tutti e benvenuti. Io ringrazio intanto tutti i partecipanti a questo convegno. Sentite intanto, fino in fondo. Io ciò che non capisco se è chiara. Si sente? Si sente? Ti è chiaro? Ringrazio tutti i partecipanti a questo convegno. Un convegno che l'ordine del Giorgio di Arrasio ha voluto organizzare nell'ambito di un ciclo di convegni che l'ordine del Giorgio è ragionato e ha già organizzato, per esempio, gli altri collegi provinciali nell'arrivo di Arrasio. Perché la materia è una materia che non soltanto, ovviamente, hanno i Giorgi, i professionisti, ma anche degli altri collaboratori tecnici che sono venuti per competenza ad intervenire su questa materia. Tanto degli agroni, degli avvitetti, degli ingegneri, degli industriali, dei giovani e dei chimici, hanno interesse sulla materia. Ovviamente l'interesse non è limitato soltanto ai professionisti che avevano il settore, ma, come mi mostro in sala, di molti amici che conosco, interessa ovviamente le imprese del settore, le situazioni di categoria e anche le pubbliche amministrazioni che poi i loro professionisti si interfacciano modernamente per cercare di lavorare nel rispetto delle norme che nel corso degli ultimi sei, sette anni si sono succedute in materia, connettersi a un obiettivo finale che è propriamente di avere la saldo quadro del territorio, la sicurezza della competitività, la saldo di carrivocessi, nel rispetto di norme che però quasi sempre obbligano, come dire, a percorsi fortuosi che a volte cozzano, intanto con la economicità della cosiddetta stessa e poi con la filosofia ultima, che è la legge, che è quella di garantire certe sicurezza. Mi interrompo e dopo avermi corazzito all'interno che ci chiedevo di dire, intanto. Grazie. A quale abbiamo ovviamente il benvenuto e a quale lasceremo un attimo la parola per i saluti di benvenuto che per quanto riguarda gli aspetti istituzionali saranno portati ovviamente dal sindaco di benvenuto alla mia sinistra ingegneria Miguelini e alla mia destra dal presidente dell'organizzazione di benvenuto Marcello Velocchi, nonché per la parte ovviamente nostra dei geologi, dal dottor Di Loreno, consigliere nazionale del consigliere nazionale dei geologi, originario di benvenuto, quindi non neanche in casa, e portare saluti della consiglia nazionale. Al termine di questa introduzione diciamo istituzionale, avremmo piacere ovviamente che lasciata la parola per i saluti di benvenuto ai rappresentanti, ai presidenti dei dati di collegi che poi, a volte in premessa, sono interessati come noi alla materia. Dopodiché, entreremo nel merito tecnico del prego del pomeriggio con quattro interventi i derivatori ovviamente odano con, come vuol dire, ottimi e punti di vista differenziamenti del settore, al termine di mai poi si tratta di un dibattito, nel corso del quale i numerosi più venuti, vedo lo saluto, lo saluto di 200 persone, quasi di 1000, avranno veramente la discussione del tempo, allo quale spero tutti noi possiamo poi con un dibattito frontale di danni cercare di chiarirci gruppi che, quotidianamente, da delle punte enormi, che pure sono continuamente in ruzione, ci costringono a benificare. Quindi io non ho mai dottuto, siamo in leggerissimo ritardo, non puoi dire quella del corso del pomeriggio. Lasserei a questo tempo la parola, leggermente a Michele, che si sta con l'interno, a quale te do il benvenuto. Grazie. Il risultato del ritardo, Presidente, purtroppo ci stava una giornata un po' campare, non va a che per il sedile che abbiamo messo il campo in questa città. Bene, io, innanzitutto, sono molto contento di questo convegno che i geologi hanno organizzato in questa città, soprattutto su un tema che è d'attualità e che può essere anche, diciamo, un foriere di soluzioni che possano risolvere alcuni problemi dal punto di vista ambientale e anche dal punto di vista costruttivo. Io credo che la presenza di ordini professionali che collabori un po' con l'ente pubblico e diverte, sia comuni, sia provincia, sia regione, sia progetto, no? Sia molto pubblico, perché vuoi portare ovviamente un punto di vista professionale, specifico, direi a volte meno amministrativo, ma che comunque c'è un risultato delle soluzioni che può durare insieme anche in rispetto di natura amministrativa, ovviamente. E quindi avrebbe dovuto che ci sia questo confronto temi come questo, ma anche su altri temi, che aiutano neanche le amministrazioni a fare per le scelte. Gli ordini professionali, così come le associazioni, sono un punto di riferimento della nostra società, così complessa, così diversa, nei vari aspetti che fare il titolo rappresenta. E quindi è necessario avere una visione del sistema. Perché il sistema ci porta poi a dare delle soluzioni a 160 gradi. Questo lo dico perché in modo particolare vedo che la situazione che stiamo attraversando è una situazione di crisi, crisi di settore economica, principalmente, è una situazione dalla quale si può uscire fuori se noi ragioniamo in termini di sistema. L'Italia molto spesso non ha ragionato in maniera, direi, coerente. Molto spesso le leggi si sono cambiate con la sua opera, molto spesso abbiamo, quanto è detto, magari l'isposizione che avevamo preso prima. E avere appunto riferimenti chiari, precisi, secondo me, servono nel risolto che il problema è che c'è anche a passo con una concorrenza globale, dove noi non possiamo evidentemente essere, diciamo, essere non partenti. Quindi dobbiamo, in tutti i modi, cercare di governare questi sistemi dove si vincorra le concorrenze che fare per i paesi riescono a dire l'interno. Allora, io credo che il nostro territorio, in particolare la Duscia, qui c'è il Presidente della provincia, quindi sicuramente può esprimere, come me, l'importanza che ha in questo territorio l'ambiente, la natura geologica. L'Arsenio è uno dei problemi che derivano un po' anche dalla natura geologica dei nostri territori, anche se ovviamente forse che vanno a interessare, mi hanno sempre di più le giovani generazioni che arrivare, diciamo, a noi che siamo un pochino più grandi. E credo che questo sia anche un modo di come noi dobbiamo rapportarci in un futuro dove l'ambiente, soprattutto per l'età e soprattutto per questo territorio, è un elemento che poco a noi non abbiamo avuto con nessissimi problemi, sempre la natura geologica rispetto a altre parti di l'arco. Comunque sia se ci sono stati, sono stati, diciamo, di limitata dimensione. Però io credo che anche, proprio per prevenire le situazioni di natura geologica, è importante accentuare la presenza e la professionalità della nostra categoria. Per fare questo bisogna essere sensibili a questi temi e credo che questa sensibilità deve essere anche, diciamo, sollecitata da parte delle amministrazioni. Perché quello che noi, magari, spesso, riteniamo che sia un dato così comune, che quindi sia considerato da tutti, molto spesso invece non è così. Molto spesso noi non abbiamo la memoria di quello che è accaduto, di quello che potrebbe accadere, e questo è uno dei difetti magari anche della nostra civiltà. Allora, io credo che dobbiamo ricordare quello che potrebbe accadere, quello che è accaduto in passato, è come si possono prevenire delle situazioni di rischio ambientale, di rischiosismo, di rischio geologico, e questo credo che sia uno dei punti veri che deve avere il Paese e che deve avere l'amministrazione locale. Io vi auguro il buon lavoro, vi auguro di avere anche successo, soprattutto per il futuro, visto che ci sono molti presenti e credo che tutti a tra l'idolo abbiano interessi e passione a questo settore, e proprio che tutte le persone che ci sono che possano anche avere soddisfazione dei lavori, con il genere di questa attività, che comunque, diciamo attività che sono connessi con quello di cui fate, ecco, mi auguro che questo territorio possa offrire lavoro, che si può fare lavoro se veramente noi viviamo nelle potenzialità di questo territorio che sono indubbiamente potenzialità di affrontare. Quindi vi auguro un po' lavoro e faccio tanti auguri a tutti voi, anche in corrispondenza delle festività andate in sé. Grazie. Allora, ringraziamo il signor Viviano e il signor Viviani che lo ricordo è il signor Viettale, quindi è a fine cugino dell'affrontata dell'anno di Genova, mi fa piacere che teniamo sotto il suo saluto di intervento, anche se rapidissimamente abbia toccato argomenti su cui noi quotidianamente ci troviamo a confruttarci, a parlare del serio, saperemo tutti noi come vi vedo avendo un affermamento per gli sedi venticulcani ci sia insieme alla zona dei Castelli Romani nel Lazio e la zona con questo problema è molto sentito e le amministrazioni hanno affrontato negli ultimi due anni. Ha parlato poi anche io rapidamente ma la sottolinea in maniera abbastanza forte di un altro aspetto a prevenzione che noi Giorgio insieme agli altri elettrici non ci stanchiamo mai di sottolineare soprattutto purtroppo in occasione di eventi calamitosi quando veniamo chiamati a commentare le negozioni che hanno portato a certe situazioni non ci stanchiamo mai di segnalare come purtroppo in Italia la sensibilità all'aspetto a radio alla prevenzione ancora sia molto modesto si preferisce o perché le risorse sono sempre poche o perché non c'è di uccideranza di programmazione si preferisce in propria emergenza attuare soluzioni tamponi voglio dire programmi conciutturali che tamponino l'evento del momento piuttosto che investire voglio dire risorse pubbliche che poi di ombra perché prevenire lo ricordo che non mi è che stanno per dirlo costa sempre molto di mira piuttosto di mettere prevenzioni in pianificazioni sostenibili quindi anche se rapidamente si deve attruggare un momento a cui noi Giorgio siamo tutti molto attaccati e insieme a noi immagino che chiunque over nel settore tecnico e abbia cuore tematiche uguali a quelli dell'ambiente e della salvaguardia ulteriore non lascerebbe subito la parola all'altro rappresentante delle istituzioni per quanto riguarda il nostro territorio della parte specie il dottor Marcello Peroi presidente della provincia di Lille ma qui do a due punti e vi lascio la parola grazie buonasera a tutti voi un ringraziamento sentito ovviamente al consiglio nazionale della persona dell'ingegnere europeo all'ingegnere Troncarelli con il quale abbiamo per tanti versi collaborato abbiamo anche rapporti di tipo sportivo diciamo io sono positivamente impressionato da una sala piena di professionisti di esperti di conoscitori profondi della materia su un argomento diciamo con chiudezza estremamente complesso e delicato che ha avuto una serie di sovrapposizioni normative piuttosto veloci e recenti e spesse volte anche di profonda modifica sulle tematiche e sulla legislazione precedente un coinvolgimento diretto di una serie di categorie assolutamente tariegate importanti e fondamentali che sono da una parte di enti e le istituzioni che in qualche maniera devono comunque regolamentare sul territorio come diceva Sette con i velini questa applicazione di procedure i professionisti che devono a monte interpretare norme spesso complicate i privati e gli imprenditori che poi sono i fluitori o comunque in qualche maniera coloro che hanno un rapporto assolutamente diretto con queste problematiche e mettere a sistema una complessa e variegata indicazione normativa legislativa e amministrativa per fare sistema e la ragione Leonardo e credo che lo dica anche oltre che come amministratore come imprenditore bisogna fare soprattutto sinergia e collaborazione e devo dire che io da quando ho avuto anche il piacere e l'onere di guidare l'amministrazione provinciale ho riconosciuto come lo dico qui prima su di tanto l'ingegnere Tosini una capacità e un'intelligenza profonda nell'affrontare una serie di problemi che il famiglio lo sa perfettamente forse non stavano riuscire ad affrontare senza una collaborazione tra altri professionisti sia ovviamente nella loro singolarità che anche nei rapporti con le loro associazioni perché quando per esempio un anno fa abbiamo credo positivamente cercato di interpretare una emergenza ambientale attraverso una indicazione una classificazione di rifiuto non rifiuto anche non è che ce lo siamo inventato dalla mattina alla sera ma abbiamo avuto anche una serie di collaborazioni e quindi indicazioni di sostegno che vengono effettivamente che sono venuti dalle categorie professionali interessanti senza questo rapporto e senza la capacità soprattutto delle istituzioni di capire che sul territorio ci sono soggetti che ne sanno anche delle istituzioni per specifica competenza per studio particolare per conoscenza del territorio e con i quali non bisogna mai creare un rapporto né di paternità né quantomeno in qualche modo di contrasto ma certamente di adesione e di rispetto per fiducia credo che questo siamo riusciti a fare su questo vorrei molto evidentemente confrontarci perché quando voi intravede delle tematiche specifiche di questo tema che è tagliati di questo convegno potremmo anche dare tutta una serie di ulteriori migrazioni che potrebbero essere certamente utilissime per noi nell'applicazione del quotidiano su un argomento e questo purtroppo è un argomento estremamente delicato di un paese che subisce attraverso una mancanza assoluta di programmazione un dissesto idrogeologico che però mi permette di dire che la geologia ha poco a che vedere perché causato da una serie di concause che ovviamente di carattere urbanistico e amministrativo ma più evidentemente di scelte politiche e porte scellerate poi fanno rigadere in un discorso anche di costi ulteriori ragione di costi ma la prevenzione bisogna anche capire che costa molto meno che poi il successivo intervento che qualche cosa va a cambiare ecco perché lo dico credete con grande convinzione convegni ed incontri come questi dove si parla di cose concrete di argomenti specifici di argomenti che comunque interessano ripeto una vasta gamma di soggetti sono quelli che spesso ci sono mancati e quindi grazie ovviamente il vostro ordine grazie a tutti voi per la partecipazione eh si è ingegnere geologo lo dopo è scontato questo ovviamente lo dopo è scontato e quindi alla luce di questo ecco credo che sia assolutamente necessario che interventi tecnici e convegni come questi ci diano soprattutto uno sfondo per sapere operare e per cercare anche con le nostre motivorenze spesso sono con i nostri ritardi di rappresentare insieme a voi questo territorio come credo che questo territorio è bellissimo meriti di essere rappresentato e di essere soprattutto tutelato anch'io volvo certamente l'occasione per ringraziarvi per l'invito del vostro lavoro e per augurare sinceramente a tutti voi e alle nostre famiglie tanti carissimi voi buon Natale e speriamo per tutti per tutte le condizioni che tutti conosciamo un 2014 migliore dettaglio presente non credo sia difficile ma comunque speriamo che sia solo una speranza grazie a tutti voi grazie a tutti grazie a tutti